Che cos'è la felicità? È un caffè con un'amica. È un bacio rubato. Un messaggio inaspettato. Lo sguardo intenso di un passante. È rispondere al telefono ed udire con sorpresa la voce di chiami. È una boccata d'aria fresca dopo una giornata rinchiusa in una stanza. È un sorriso. È una passeggiata al sole dopo settimane di pioggia. È un profumo nuovo. È il sorriso di un bambino. È una confidenza fra sorelle. È la tua canzone preferita capitata casualmente alla radio. È un'emozione improvvisa. È la luna piena. È un abbraccio affettuoso. No. Non pensare a domani. Cosa farai e se sarai felice. Goditi il momento presente. È l'unico che possiedi. È l'unico che puoi vivere. Non chiederti se ci saranno le opportunità giuste. Creale. Non pensare troppo al domani. Respira l'istante presente. Non domandarti se domani pioverà. Oggi vedi il sole. Ed è questo che conta. Goditi ogni istante. Ogni emozione. Ogni lievo respiro. Sono queste le nostre dosi di felicità. E in questi secondi azzittisci i pensieri. Chiudi gli occhi e ascolta il battito incalzante del tuo cuore. Non è questa la felicità? Aforisma preso dal web.